Gli altri, erano anche questa partita, venivano il chieno e il chieno, c'è. Sto portato tra auto e mezzi pesanti, colleghi. K, 2 camera e 3 PM. Ma almeno che non vi ha fatto niente, nessuno. No, no, quello che ha stamponato col barra, poverino, si è rimasto incendio, si è bruciato dentro la camicia. Quello che ha stamponato? Ah, paga, è rimasto bruciato nella camicia. Ah, quello che, sì, ho visto quello che è distrutto, è bruciato, scopri che non sta stamponato. K, paga. Ah, mi avrei voluto camminare, non è successo niente. Sì, mi è brutto rotto. Sì, mi è brutto rotto. E' un po' di rinnovati, e' un po' di rinnovati, e c'è già la gente che deve fare il nuovo lavoro. Si chi li so! Avete oltre la testa? Io so dire se lì sono lì per la fine Questa si, io l'ho fatto un costumimento in casa vs ma l'ho fatto un costumimento in casa con i nostri testi e poi ce l'ho fatta A forza siamo fermi di noi che dire io Questa si si va in motro con i primi mattini perché sono in casa che in caso e poi si potranno sapere Grazie a tutti. 2,70.